questo articolo di razer ha riscontrato una valutazione di 8.6 su 10 totali risulta essere il più scontato di questa selezione le sue funzionalità sono comodo ergonomico leggero ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di microsoft è di 8.8 su 10 risulta essere il più esclusivo di questa selezione le sue qualità sono ergonomico comodo leggero ottimo rapporto qualità prezzo se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di logitech è di 9.2 su 10 risulta il più venduto i suoi pregi sono durata della batteria durabilità ergonomico comodo leggero ottimo rapporto qualità prezzo trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video la valutazione finale assegnata a questo articolo di logitech è di 9.2 voti su un totale di 10 è al momento il più votato con 12.386 valutazioni per questa categoria questi sono i suoi punti di forza durata della batteria ergonomico comodo versatilità leggero durabilità puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video logitech con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9.2 su 10 risulta essere il migliore di questa selezione i punti di forza sono ergonomico comodo leggero in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato razer ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10 risulta essere al momento il prodotto più regalato le caratteristiche principali sono ergonomico comodo stile leggero durata della batteria ottimo rapporto qualità prezzo se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video questo prodotto realizzato da microsoft ha conquistato una votazione di 8.8 su 10 punti totali questa è la nostra scelta migliore i suoi punti di forza sono comodo ergonomico leggero il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto di logitech è di 9.2 voti su 10 al momento è il più economico di questa selezione i punti di forza sono durata della batteria ergonomico comodo facile da tenere ottimo rapporto qualità prezzo leggero in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto complessivo assegnato a questo articolo di microsoft è di 8.2 su 10 risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo le sue peculiarità sono comodo ergonomico leggero se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video Grazie a tutti